Il marito è un 12 anni fa, ma ci vuole che fa la santa. E mi dispiare. E ci fai. E mi dispiare. Allora, allora, io presti stai. Allora, ci vediamo domani. Mauro. 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 E sono il direttore di te? Mauro, mauro è il laureato di Amore, mi chiamo Amore. Mauro. Ah, sì. E dove fa che andava? Signor Mauro. Mauro, stai dall'accentra. Ma la signora, di questo nome. Stai da canna. Hai riuscito a fare? Eh, sì. Non muro, non è proprio come la stagione. Domani mattina alle 6 e mezza apriamo. T'è l'offerta del vino collocato a Piatomuio. E' il stesso capone. E' il stesso capone. Ok. Aggiungate a me. Aggiungate a me. Aggiungate a me. Perché? Vole ce ne sono? Eh. Eh, non è meglio. Vole a chi si può stare. Caravocca. Sì. Eh, bimbi. Adoro, no. Vabbè, ti sta a gettare. Vole a te l'amazzola un po' prudibile. L'amazzola. Oh, ma io qua vedi una busta di plastica che vi esce dalla scarta. No, io ho camminato in due, in due, in due. Peppe, vieni la busta a noi. È rotta. No, no. Io ho camminato in due mari stamattina. Ah. Io arrivo dalla montagna. Arrivo dalla montagna. La montagna ma è montevergine? Arrivo dalla montagna. No, la bellina, Monteterminio. Perché non vedi? Non vedi la montagna. Allora, non c'è la verità. Arrivo dalla montagna. Monteterminio? Ci sono anche i prussi. Monteterminio. È venuto fino a qua a fare spese? Sì. È venuto? È venuto di rimanere offerta però. Sì. È venuto di rimanere offerta. Allora. Non, è venuto di rimanere offerta. Non, non, non. È venuto di rimanere offerta. È venuto di rimanere offerta. Dovrò, ci sono venuto di rimanere offerta.